eccoci su disonore 2 e ci manca praticamente siamo quasi alla fine di secondo me secondo me sì perché questi sono i viaggi di sotto 2 e e andiamo a fare queste visione quindi allora voglio vorrei andare a trovare l'oficina che passa qua potuto contare sul sostegno delle finanze e della marina di tanto qua in cucina è già fatto fuori tutto il cibo allora però aspetta io ci sono ecco 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 non mi ricordo dove stava la dottoressa questa è la mia e la dottoressa dove stava? scusate eh se era questa, se è questa, e dove è andata? Il telebriefing È stato criptico. Il che mi sta bene. Il mondo è migliore, con un po' di mistero. Ma una volta al Gran Palazzo, le tue azioni cambieranno il futuro di Karnaka per gli anni a venire. Ricordatelo. Chiunque mi sbarri la strada verso il Duca, Abele se ne pentirà. Meritano tutti di soffrire. Vai, vai, vai. Per me sono qui, sono pronto. Pronti a fare visita al Duca? Yes. È ora di andare. A Palazzo, il Duca ha un sosia uguale a lui per confondere gli assassini. Una mia amica lava la biancheria e dice che il sosia fuma se può aiutare. Forse potreste parlargli e pare che sia un bravo uomo. Che lavoro infelice. Fingersi un tiranno come il Duca Abele. Ma perché non lo spolestano? Ma un esercito controlla le miniere e godeva del vostro supporto dalla capitale. Alle feste del Duca i ricchi dissanguano il paese mangiando granchio bollito. C'erano feste simili anche a Dunwall, piene di adulatori per Emily. Mi veniva voglia di tornare per le strade di Serkonos. State dimenticando cosa significa? Io guardavo le luci di quelle feste dal tetto della macelleria abbandonata in cui dormivo. Nel distretto sommerso. So che hai dovuto lottare. Dopo anni a corte di nuovo non sono nessuno. Ma non scorderò quello che ho visto qui quando sarò di nuovo alla Torre di Dunwall. Tornare a Carnaca mi ha fatto capire molte cose. Bene. Quando avrete eliminato il Duca, scoprite cosa custodisce per Dilaila e prendetelo. Una volta finito vi recupererò con la barca. Vamonos. Allora, a chi? Non ci sta a niente. Ok. Allora. Ma un po' un mercante nero, no? Proprio per comprarmi due cosi, no? Giusto per... La roba che entra deve arrivare a destinazione. Per questo lo chiamano mercato nero. Non può restare qui. I legittimi proprietari potrebbero cercarla, o la Gran Guardia potrebbe scoprirci. Perchè questo ritardo nella consegna? Vetti teme che ci scoprano. Quello che gestisce la bottega è nervoso. Ma se ci lasciassero scaricare la nave... Ho un buon amico al negozio. Fornisce protezione da anni alle botteghe del mercato nero. Qui a Carnaca e a Callero. Quindi non ci sono rischi. Come si chiama il tuo amico? Ah ah. È un segreto. Tratta con me e con nessun altro. È una sicurezza. Tempi duri. Con il Duca e la sua Gran Guardia. Un uomo deve essere pronto a tutto. No, non mi vedi della roba. Domani avrò i sigari. E vuoi comprare uno? Perché vuole quell'appartamento? C'è polvere ovunque e non c'è modo di pulirlo. Chi gioca a fare l'idioto? È un etine. È spicci. Mi spiace te ne ho. Allora. Mizzica. Ma stiamo a mettere una chiavica. Vincica. Che dormi. Non aspetta che fare. No, non cerchi. Ma no. Un beigna. Ma no, non cerchi. Qui? 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 Qualcuno ci spada addosso Qualcuno ha tentato di colpirmi alla testa Allora, vediamo Che succede qui? Colpisco forte Serve fuggire Vediamo, cos'erano? D'accordo Prego, no! Hai il volto coperto Alla gran guardia non piacerà Ti preoccupare Che mi venga un colpo Non voglio perdermelo Sì, scommetterci Che non mangi mai con noi Quando lavoriamo nel distretto Qualche settimana fa Ho aiutato un'anziana signora Uno di quei bastardi della gran guardia La stava infastidendo Per una stupida tassa da pagare Per vivere vicino al palazzo Immobile per il quartiere Davvero? Chossate , ciò rispondi Un' annoyed Aiuto From . No Mi ecco cosa valga niente anzi meno oh no 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 merda sto sempre allerta sempre non me lo devono ripetere impossibile non si 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 C'è qualcuno che sta male. Non lo dirà nessuno, promesso. No, ti prego. 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 Ok. No, ti prego. 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 ti prego. No, 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 ti prego. Sì, davvero terribili, in una volta che hai servito di Notibiano con lo Scorfano. Scherza pure, se vuoi. Il nuovo duca spende più in un mese di suo padre in un anno. Il vecchio Teodanissabella in confronto era un tipo originale. Perché preoccupare? Un momento. Non mi interessa quel che succede. Non mi interessa quel che succede. Ma cosa sai fare? Non vai da nessuna parte. Non ce la vediamo io e te. Non ce la vediamo io. 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 Qualche? Ma correte! Che succede? Aiuto! Facciami stare! Che succede ora? Il fuggitivo mascherato! Aiuto! Mi serve aiuto! un momento non posso fare niente per te ti conviene andare deve condurre al cavo del duca ma mi serve la chiave a rimuovere questa registrazione dopo l'ultima prova pratica non allora sono riuscito a recuperare la chiave quindi ecco vabbè quel lì e la madonna la creazione di Ashworth che compie ci siamo liberati da questo contento di morto da questo mondo avvenuto intrappolo allo spirito di Tyra ti lascio troverò un altro modo no non voglio più vedere cosa è diventato questo mondo ti ha cambiato ho fatto ciò che dovevo per proteggere l'impero e tenere Emily al sicuro avevamo grandi sogni ma non riconosco più le tue azioni salva mia figlia e lasciami andare dunque è fatta è tempo di restituire questo cos'è? il cuore della mia sorellastra? rimangono sui suoi resti chiedo se fosse davvero vivo la vecchia cicatrice non svaniscono eh Luca? è possibile metti che è tutto tutto zero io sarei un mercante al più presto porti privati di Luca ancora ancora ora o ma qua 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 non comprendo diamo una salvata allora allora secondo me l'unica parte attacca attacca e va a farti due di qui dovrebbe funzionare non 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 Sì. In calma, eh? Dunque, è fatta? La caduta di Karnaca? Il duca è morto. Brindiamo al futuro. Torniamo alla Dreadful Way, e poi si parte per Damwon. Eh sì. Per cercare di aiutare Emily per restituirle il legittimo trono. Pronti? D'accordo, come volete. Per me questa è una traditrice del 32 anni. Così è iniziato il peggior giorno della mia vita. Con un uomo mascherato diretto alla Torre di Dunwall per un omicidio. Daud e il Lord Reggente hanno ucciso Jasmine. E questo crimine li ha tormentati. Ora accadrà di nuovo. Un'altra Imperatrice muore. Un'altra storia finisce. Che effetto avrà su di me? Dilaila non cederà senza combattere. Mi ha atteso una trappola e io ci sono cascato. Ma prima di diventare protettore reale ero corvo. Prima di avere una spada, combattevo con bastoni e schegge di vetro. Con qualunque cosa. Non so quale sia il tuo grandioso piano, Dilaila. Ma sto venendo a seppellirti. Sto arrivando. Però, ripeto, senza mercante. E' da raccattare qua. Non c'abbiamo più niente. E lo facciamo per il prossimo appuntamento. Bella. Ciao.